ciao a tutti sono francesca e duressage for jumping stiamo qui vicino a milano a casa di susanna bordone atleta olimpica nella disciplina del completo buongiorno susanna e grazie mille di avere accolto a casa tua buongiorno a tutti e grazie a voi allora susanna le persone che seguono la nostra pagina sono molto curiose di sapere come mai ha iniziato a fare equitazione soprattutto come mai un certo punto della tua vita hai deciso di trasferirti in inghilterra puoi darci un po un'idea ma montare a cavallo in realtà è stato un po per caso nel senso sì nel senso che da piccoline sia mia sorella sia io abbiamo fatto abbiamo provato diversi sport mia mamma ci ha fatto provare questi sport stando a milano a un certo punto abbiamo iniziato a montare al centro ipico lombardo e ma montando una volta ogni due settimane quindi proprio con la scuola pony e poi da lì ho iniziato a fare sempre di più sempre di più ed eccoci qua e a un certo punto sei anche andata in inghilterra forse per impraticherti di più nel completo sì perché in inghilterra comunque è una una disciplina molto seguita molto popolare ci sono moltissime gare più che altro e quindi dopo aver finito la scuola mi sono scritta all'università qui in italia però non frequentavo nel senso che stavo su preparavo gli esami e poi venivo giù però stavo su vivevo su e quindi sono riuscita a fare questa esperienza e per sette anni sono stata su fissa poi durante l'inverno quando non c'erano gare mettevi cavalli al prato tornavo a casa e sei riuscita arrivare fino a fare le olimpiadi esatto allora Susanna nella tua scuderia ci sono dei cavalli che come te hanno avuto risultati molto importanti a livello internazionale ma è vero che per arrivare a questi risultati serve una preparazione sportiva del cavallo che non è proprio la preparazione a cui siamo abituati con i cavalli degli amatori beh per il completo assolutamente perché il cross è una prova dove il fitness è fondamentale e quindi io mediamente inizio a preparare una gara di alto livello a livello di fitness sto parlando oltre che lavoro quello dove sempre pratico di fitness un tre mesi prima con un programma mirato ad arrivare in forma per la gara anche perché come con le persone anche con i cavalli la forma massima non si può tenere tutto l'anno si può tenere per un periodo poi bisogna lasciarli un po riposare esatto e dopo si torna su con con il fitness e con il fiato con la condizione tutto quindi anche il programma di gare viene pensato in base a questi periodi di massimo sforzo e poi recupero del cavallo sì nel senso che per le gare io parlo adesso sempre nelle gare grosse di solito io per esempio dopo una gara grossa i miei fanno un mese riposo un'ora sì un'ora di giostra la mattina poi vanno al prato basta poi tre settimane per rimetterli in lavoro ok e poi inizio a lavorare veramente ma diciamo la settimana tipica di un cavallo il lavoro prevede più o meno che cosa allora se già faccio i galoppi di allenamento per le gare quindi parliamo dei due mesi circa prima è un giorno libera la settimana galoppo si giostra tutti i giorni un'ora al passo al passo e basta giostra al passo e poi dopo di che vanno al prato sì e settimana tipo quando sono in pieno allenamento è un giorno libero fermo restando la giostra c'è sempre il prato anche un giorno galoppano in pista a seconda il numero di giri ovviamente trottano prima per scaldarsi poi galoppano a seconda il numero di giri dipende a seconda della gara ovviamente quindi la lunghezza del percorso che dovrà affrontare e galoppo ogni quattro giorni quindi in una settimana galoppo due volte quindi poi siamo a tre giorni il giorno dopo aver galoppato fanno una ventina di minuti così un po trotto qualche piccola cessione alla gamba così solo per smaltire l'acido lattico ma non posso lavorare perché ovviamente il giorno prima hanno fatto un lavoro pesante e poi mi rimangono due giorni e in quei due giorni di solito o magari due volte lavoro in piano con i cavalli più esperti che saltano una volta ogni due settimane oppure un giorno lavoro in piano e un giorno salto dipende ecco e il percorso di caros lo fai mai a casa? No con i cavalli esperti no perché se vanno bene in gara e saltano in gara onestamente non c'è bisogno di saltare io adesso sto parlando di cavalli esperti non dipende e invece cavalli più giovani? Puledri è diverso perché a volte quando fanno le gare proprio dell'inizio non c'è neanche bisogno di fare i galoppi cioè con il lavoro normale che si fa col saltare in campagna invece con loro perché con loro bisogna saltare certo abituarsi e mantenere costante anche la confidenza che hanno con gli ostacoli di superarli di non aver paura eccetera eccetera già facendo quello si galoppa comunque quindi va bene sono solo i cavalli esperti di una certa età con una certa esperienza con loro non si salta in campagna no grazie a tutti